Musica Cari amici, so bene che quest'anno stiamo confondendo la quaresima con la quarantena. Non importa, il Signore non si perde in quei squili e le si cali. A Dio sta a cuore che il tempo non trascorra in vano. È un dono che deve fruttificare nelle nostre mani, soprattutto deve sprigionare tutta la sua fecondità attraverso la nostra vita. Siamo chiamati questa domenica a vivere esistenze grondanti luce. Infatti, il protagonista di questa quarta domenica di quaresimo è un uomo cieco dalla nascita. Un uomo che non ha potuto accarezzare con lo sguardo le meraviglie del cosmo, i volti delle persone care, i colori e le forme degli oggetti. Un uomo che non ha mai sperimentato il mistero della luce che con i suoi riflessi imprime sfumature meravigliose ad ogni cosa che accarezza. Quest'uomo finalmente si imbatte nella persona di Gesù. Il divino taumaturgo, con gesti a noi misteriosi e a dire il vero anche ripugnanti, ridona la vista all'uomo cieco dalla nascita. In questi gesti dove si impastano gli elementi primordiali della creazione dell'uomo, fango e saliva, mi sembra di rivedere la volontà di Dio di ricreare sempre ogni cosa. Quell'uomo è come ricondotto a quel principio in cui Dio disse sia la luce e la luce fuori. È l'imprincipio che fa sempre nuova ogni cosa. Noi che stiamo attraversando una lunga notte siamo ad un tratti proiettati nella luce. Noi che sentiamo incombere l'oscurità di questo triste momento dell'umanità avvertiamo la promessa di Dio che tornerà a far brillare la luce nei nostri occhi e nei nostri cuori. I nostri occhi già ridono di gioia e intravedono all'orizzonte i primi baglioni di una nuova aurora. E anche noi potremo dire come il cieco nato una cosa io so, ero cieco e ora ci vedo. Dimenticamo, noi non siamo ciechi dalla nascita, ma in questi ultimi tempi vediamo tutto grigio. Desideriamo quanto prima tornare a vedere a colori e godere della policromia della vita. Buona domenica a colori a tutti. Buona domenica a tutti. Buona domenica a tutti.